100 appartamenti e un megacentro commerciale nell'area degli ex gasometri a San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello, a ridosso delle scuole Benedetti, Tomaseo e Sarpi. Il progetto di un'agenzia immobiliare approvato dal Comune nel 2014 si estende anche agli spazi attualmente occupati dal cortile esterno degli istituti scolastici e gli studenti sono pronti a far sentire la loro voce. Come scuola avremo svantaggi perché vengono presi gli unici spazi aperti a noi disposti e perché ci servirebbe in quella zona una palestra magari utile agli studenti stessi. Ma la realizzazione di questo grande progetto privato non ci riguarda solo in quanto studenti, spiegano i ragazzi, è soprattutto come cittadini veneziani che vogliamo impedire la creazione di un nuovo centro di sfruttamento della città a fini turistici, visto che sulla destinazione di quei nuovi alloggi non esiste al momento alcun vincolo. Di sicuro noi cittadini abbiamo bisogno di un altro polo turistico che vada a contribuire a questo processo che sta rendendo di Venezia un parco tematico invivibile per i residenti. Rimendichiamo piuttosto l'edificazione di strutture utili alla cittadinanza. Gli studenti hanno quindi organizzato un corteo in partenza da San Paolo alle 9 di mattina. Noi sabato andiamo a manifestare sia come cittadini che come studenti insieme a molte associazioni per rivendicare questo nostro diritto della palestra ma anche il nostro diritto a restare e vivere nella città di Venezia con degli edifici pubblici.